Ciao e bentornati nella Tana dei Mad Men. Io sono John e questo è il Crypto Special, il nostro solito appuntamento di approfondimento dedicato al mondo delle cripto e dintorni. Nel video di oggi ho pensato di parlarvi di lui, cioè del Ledger Nano S Plus, che è l'ultimo arrivato, l'ultimo tra virgolette perché in giro da un po' di mesi, in realtà, della famiglia Ledger, una delle principali aziende dedicate, concentrate, sulla produzione di hardware wallet. Ora, perché ve ne parlo oggi anche se in giro da diverso tempo? Perché nell'ultimo periodo, con quello che è successo con FTX, con tutto il panico che ne è giustamente conseguito e con la generale fuga dell'exchange, quello degli hardware wallet, di come tenere i propri soldi in sicurezza, le proprie cripto in sicurezza, è un tema che è tornato alla ribalta. Non è una cosa che mi faccia piacere, al di là del casino in sé, ma perché dovrebbe essere una delle buone pratiche quotidiane nella vostra strategia di risk management, però, appunto, visto che ce n'è la necessità, visto che ne stanno parlando tutti, visto che è il mantra sulla bocca di chiunque, mostrarvi non tanto cosa sia un hardware wallet, ma come si configura e come si possa utilizzare, mi sembrava, insomma, un contributo potenzialmente utile. Questo video, lo dico per chiarezza, non è sponsorizzato, Ledger non mi paga per farlo, Ledger, se vuoi, poi ti giro la mia chiave pubblica, ma al momento non vengo pagato per farlo, quindi, proprio massima neutralità, massima trasparenza. Vi parlo di questo prodotto perché, per quella che è la mia esperienza, per quello che è il mio rapporto con il risk management, è, secondo me, un prodottino molto interessante. E sul perché vi stai parlando di questo, che è il fratellino minore, e non del Ledger Nano X, beh, di questo parliamo alla fine del video, dove vi darò un paio di considerazioni su quali siano le situazioni nelle quali, secondo me, questo tipo di prodotto può essere utile, e quando invece, cioè quali siano le differenze rispetto al Nano X, appunto al fratellino maggiore, e in che casi lui possa essere una soluzione sufficiente. Do per scontato, prima di cominciare, che tutte le informazioni su cosa sia un Cold Wallet, su cosa sia un Hardware Wallet, che è uno dei tipi di Cold Wallet, sul perché sia rischioso ottenere i soldi nell'exchange, o in altre situazioni, se invece, teoricamente, insicura al 100%, teoricamente, perché la sicurezza del 100% non esiste mai, all'interno di un di questi cosi, diciamo, tutta la base è teorica, do per scontato che già la sappiate, perché ne abbiamo parlato nel corso, scusate, ne abbiamo parlato nel canale, ne parliamo nel nostro corso, ne riparleremo nel canale, insomma, sono argomenti che non fanno parte del focus di questo video. Se però siete curiosi, almeno di farvi un'idea, di quali siano alcune delle regole di risk management e di sicurezza che si possono utilizzare, non sui Hardware Wallet, ma nella scelta dell'exchange, vi rimando al video che ho pubblicato la settimana scorsa, ve lo linko qua, da qualche parte, perché anche quello fa parte del risk management, e anche se questa è l'ultima barriera, l'ultima trincea, per essere tranquilli, anche quel tipo di strategie, di parametri, possono tornarvi utili. Poi, vabbè, in descrizione al solito trovate le solite cose, link, referral, link ad accesso alla community, link di acquisto del corso, bla 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 bla, insomma, queste cose le sapete, come sapete che se volete restare aggiornati l'iscrizione, la campanellina e se vi piace il contenuto, il like, insomma, sono le solite cose di routine. Detto questo, entriamo nel vivo e andiamo a capire un po' cosa ci sia, facciamo un veloce unboxing e poi come si configuri questa cosa. Allora, cominciamo con l'unboxing, che come vi dicevo, sarà molto rapido e molto indolore. Se non vi interessa, potete schippare al chapter successivo, così vedete direttamente la parte installazione. Comunque, confezione molto figa, devo dire, da architetto e designer, non posso che dare una nota di merito perché c'è una cura nel design, che non è per niente molto, diciamo, molto l'Apple, non è per niente scontata, ma soprattutto figo che un'azienda che si occupa comunque di tutt'altro, dimostri una certa attenzione anche all'aspetto di filiere, di impatto, eccetera, perché la plastica, come vedrete all'interno, è ridotta al minimo, è quasi tutto carta o cartone e quindi, insomma, questa è una cosa positiva. All'interno quello che trovate, quello che troviamo, scusatemi, sono principalmente, vabbè, il nostro Ledger, ma ci arriviamo tra un secondo, poi abbiamo l'indirizzo, vedete, ledger.com.start, che sarà l'indirizzo al quale dovremo andare tra poco e dovrete poi andare voi per scaricarvi l'applicativo che è quello che ci serve per poi utilizzare, aspettate che non lo trovo, il leggerino. Abbiamo lui e ci arriviamo tra un secondo, dopodiché cavando questa parte qui, anche lei mi sembra in cartone, quindi molto figo, le istruzioni e un po' di materiali. Ora, do per scontato che, visto che state guardando questo video, non abbiate voglia di leggere le istruzioni che quindi questa parte vi interessa fin là. In ogni caso, se volete approfondire, avete voglia di andare a vedere i dettagli, qui dentro trovate tutto. Qui sotto, invece, aspettate che lo elimino senza fare danni, per una volta sto riuscendo a non devastare la confezione, c'è, wait, quello che ci servirà per connettere la nostra, il nostro leggerino. Eccolo qua. Quindi c'è il nostro cavetto, che ci servirà tra un secondo, e poi questo, che è per attaccarvelo, insomma, dove cavolo vi pare. Ok? Quindi c'è anche il gaggettino. Ora, cosa sono, cos'è questo Secret Recovery Sheet? Questo è, tra l'altro hanno fatto un passo in avanti rispetto al passato, è molto più grezzo nelle versioni precedenti, ma è il libriccino nel quale voi dovrete andare a scrivere il cosiddetto SIDS. C'è la lista di 12 o 24 parole, a seconda di quanto sicura la volete fare, che vi permetterà, in caso di perdita del legger, o di danno di qualsiasi altra cosa, di recuperare il vostro wallet. Una cosa che spesso non è chiara, che spesso molti non sanno, è che il legger non è che, scusatelo, eccolo qua, non è che vi permetta di salvare all'interno le vostre cripto. Le cripto, come al solito, sono salvate sulla blockchain. Nel momento in cui quindi perdete questo coso, non state perdendo i fondi che avete, ma state perdendo le chiavi di accesso per i vostri fondi. Quindi, sostanzialmente, quello che vi serve per poterci accedere. Di conseguenza, nel momento in cui l'oggetto fisico è perso, ma voi avete le 12 o 24 parole che poi andremo a rigenerare, a rigenerare, scusatemi, a generare, per il ripristino di tutto quello che è il vostro wallet, voi potete comprare un nuovo hardware wallet e con il SIDS ripristinarlo. Non entro troppo nel merito tecnico, perché di nuovo è una cosa che abbiamo spiegato nel corso, che abbiamo spiegato nel canale, che rispiegherò, ma ricordatevi che chi perde queste parole perde l'accesso in caso di danno o di problemi al proprio wallet. Ma soprattutto che chiunque abbia in mano le vostre 12 o 24 parole, il SIDS, può avere accesso al vostro wallet, può sostanzialmente accedere da un altro hardware, ripristinarlo concettualmente da un altro hardware wallet e rubarvi tutti i fondi. Quindi, nel momento in cui scriverete queste cose, le due regole fondamentali sono A. Non perderle. B. Farne qualche copia in più. O farne delle copie che non possono essere distrutte e perse. C. Far in modo che nessuno al mondo le veda. Perché chiunque le abbia in mano, ha in mano i vostri soldi, il vostro wallet e i vostri soldi. Ora, molto carino che l'abbiano fatto così. Devo dire che la carta, per quanto è in molteplice copia, ha sempre il problema di essere potenzialmente fragile, perdibile, distruttibile, che non credo esiste in italiano. Quindi, consiglio mio, trovate magari qualche altra soluzione. Per esempio, fanno delle placchette in metallo, se non ricordo male in titanio, non vorrei dire una sciocchezza, dove potete incidere il SIS, ci sono altre soluzioni. Insomma, trovate qualcosa che vi faccia stare tranquilli e non fatene, possibilmente, una copia sola. Che se è one shot, one kill, è finita. Altra cosa che vi sconsiglio, per quanto possa sembrare conto intuitiva, non tenetele come copia digitale. Perché per quanto le copie digitali possano essere crittografate, messe dentro password manager, eccetera, 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 comunque, nel momento in cui siete connessi a qualcosa di... Cioè, siete connessi alla rete, siete virtualmente attaccabili. Magari molto poco, ma siete virtualmente attaccabili. Questo, magari in versione un po' più solida e permanente, o ve lo rubano di dosso, o non c'è modo che attraverso una connessione internet ci arrivino. E sembra una banalità, ma la quantità di casini che possono succedere è molto alta. Venendo a noi, quindi venendo invece alla chiavetta, il... scusate, la chiamo chiavetta, ma perché il mondo intero la chiama così, anche se tecnicamente non lo è, vedete che ha questo tipo di situazione, ok? Quindi abbiamo... si apre effettivamente come una chiavetta, abbiamo due pulsanti che poi ci serviranno per orientarci, per muoverci all'interno del menu, allo schermo che il suo predecessore, il, diciamo, il nano S normale, non aveva, e ha la possibilità di essere preso in diversi colori. Io l'ho preso azzurro, mi sembra ci sia aranci in altri colori, viola, forse viola solo l'X, insomma, scegliete quello che vi piace dal punto di vista, poi, della funzionalità, ovviamente non cambia assolutamente nulla. Quello che, e ci servirà tra un secondo, vi faccio notare è qui, scusate che mi giro la parte della telecamera, c'è la bocchettina di accesso, che è poi quella che utilizzeremo per collegarci, ok, con il cavo al computer. Questa cosa è importante perché, a differenza dell'X, è una delle differenze principali, il nano S+, ma anche il nano S precedente, il suo antenato, non hanno una batteria. Quindi, lui, se provate a schiacciare, vi faccio vedere, vedete, se provate a premere i bottoni, non fa assolutamente una ceppa, perché non è alimentato. Per poterlo utilizzare, va collegato ad una fonte di alimentazione, cioè al computer, attraverso, appunto, un cavo, altrimenti non si accende. Detto questo, lo colleghiamo immediatamente, e in realtà, seguiamo le sue indicazioni. Cioè, quello che io adesso simulerò, sarà quello che succederà a voi, quando lo prenderete, che dovrete barcamenarvi per capire come installarvi, quindi faccio finta di non saperne assolutamente nulla, e mi limito ad andare sul link che mi hanno dato loro, e vedere che cosa succede. Eccoci qua. Come vi dicevo, faccio finta di essere nella vostra situazione, quindi seguire semplicemente passo a passo le istruzioni. E in realtà, sia tramite sito, sia tramite ledger, lui stesso dirci passo dopo passo cosa fare. Quindi faccio finta di non sapere nulla, e mi metto nei vostri panni. Ora, nel coso, nella scrittina che vi ho mostrato prima, c'è scritto di andare appunto su ledger.com slash start. Io ci sono andato, qui mi permette di scaricare e di fare il download del software. Io ovviamente l'ho già fatto, qua potete scegliere semplicemente il sistema operativo, e una volta fatto, quello che vi troverete sul vostro desktop è questo. Ovviamente scaricate quello coerente col sistema operativo che utilizzate. Da qui andiamo su get started, ok, e lui mi permette di scegliere il dispositivo. Noi abbiamo l'S+, lui come vi dicevo il Nano X è il top di gamma, poi ci arriviamo, e magari ci farà anche un video dedicato, e questo invece è l'antenato dell'S+, che ormai il poverino è passato a miglior vita. selezioniamo il nostro, quindi select, lui mi chiede prima volta o vuoi un recovery phrase, questo famoso seed del quale vi parlavo, che vi permette in caso di perdita del vostro vecchio ledger, acquisto di nuovo ledger, e necessità di ripristinare il wallet, di inserire il seed e fare tutto il processo di ripristino. Noi ovviamente facciamo finta, anche perché in questo caso lo è su serio, di stare utilizzando la prima volta, quindi facciamo una prima installazione. Diamo il via, diamo il tempo, ok, bla bla bla, vabbè qua mi dice tutte le varie cose, chiuditi, va benissimo, ecco qua. È carino, mi dice preparati una trentina di minuti, noi ci metteremo di meno perché vi salta un po' di passaggi, prendi in pugna una penna perché ci servirà per scrivere le parole, e soprattutto stai tranquilli, stai da solo e scegli un ambiente confortevole e quieto, YouTube mi sembra la cosa ideale. Quindi vai, I'm ready, partiamo. Per prima cosa dobbiamo accendere il nano, come vi dicevo non avendo batteria non posso accenderlo quindi devo collegarlo col cavo USB, cosa che io prontamente faccio. E vedete che lui nel momento in cui lo collego si accende. Probabilmente lo vedrete un po' sfarfallante per questioni di frequenza di aggiornamento del mio telefono, ma insomma il concetto è che mi dà il benvenuto, mi dice bla bla bla, premi il pulsante destro per continuare. In teoria vedo che qua mi dice seleziona setup new device, bla 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 bla, quindi dico next step, e vediamo cosa succede. E mi dice di inserire il pin code. In realtà questo è perché questa fase, questa prima fase non la posso fare dal web, dall'app, ma devo farla direttamente dal ledger. Quindi mi sposto sul ledger e seguo le istruzioni qua. Mi dice premi il pulsante destro per continuare. Io lo premo, mi dice download bla bla bla, quando hai fatto, fai, vedete che anche qua è a prova di scemo, nel senso che lui è a dirvi cosa fare. e a questo punto mi dà le indicazioni su come navigare, quindi usa i bottoni per navigare i menu, bottone destro vado a destra, bottone sinistro vado a sinistra, l'avreste mai detto. Premi entrambi i bottoni per selezionare, quindi se io faccio così, sto selezionando, ok, e poi tieni schiacciati i bottoni, entrambi i bottoni in qualsiasi momento per accedere ai settings and more. andiamo a destra e mi dice start ledger live for help during setup. Io l'ho già startato quindi possiamo procedere. Setup as new device, noi lo stiamo setupando perché vedete posso scegliere anche di fare restore le stesse due opzioni che mi dava prima sull'app, nel nostro caso è la prima opzione quindi la seleziono col doppio clic, cioè tenendo premuto entrambi i bottoni e a questo punto devo scegliere un pin che ovviamente non vi farò vedere da 4 a 8 cifre ma che è quello che ci permette di accedere come il pin del telefono ok, il corrispettivo della password questo perché perché al di là del SIDS che è diciamo l'ultimo livello ma già il pin se qualcuno mi prende il ledger li impedisce di accedere e quindi chiaramente è una prima misura di sicurezza. Per selezionarlo ok, io gli dico ok e qua semplicemente col tasto destro vado avanti col tasto sinistro vado avanti e qua indietro scusatemi quando ho deciso col doppio clic glielo confermo. vedete che c'è una X cioè lui mi dà oscurato il primo il primo cosino ma mi dà anche una X eventualmente per tornare indietro questo mi permette di tornare indietro e di settarlo ora vi dicevo io questo non vi faccio vedere cosa setto e tornate a un secondo magia del montaggio rieccomi qua allora ho inserito il pin e adesso dopo averli dato conferma lui ovviamente mi dice bravissimo ora però devi mettermi giù devi scriverti giù la recovery phrase a maggior ragione questa non ve la posso far vedere ok ma quello che succederà dandogli l'ok schiacciando entrambi i bottoni sarà che lui mi darà una serie di parole che io dovrò scrivere esattamente nell'ordine con il quale me le da lui all'interno del libricino che vi ho mostrato prima o su qualsiasi altro supporto possibilmente indistruttibile quindi adesso io le genero me le trascrivo ovviamente non ve le faccio vedere e poi torniamo tra un altro nanosecondo per la fase successiva rieccomi di nuovo scusate i tagli ma è un po' dedicata come cosa quindi mi sembrava sano non metterla urbi e torbi su youtube in ogni caso cosa succede che lui mi ha dato queste 24 frasi 24 parole io me le sono trascritte poi mi ha chiesto di riverificarle quindi mi ha dato la possibilità di rifare il giro e mi dice la parola 1 qual era e mi dava tot scelte io ogni volta dovevo confermare la scelta giusta e adesso mi dice occhio cioè bravo tutto settato tienila in un posto sicuro cosa che io ovviamente farò procediamo e vediamo che succede allora beh qua vi spiega quello che vi ho già spiegato se persa la sizza se scusate se perdete il cosino il ledger ve lo rubano si rompe bla 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 tutti gli asset in assenza di quella seed di quella serie di parole scritte esattamente in quell'ordine sono persi quindi mi raccomando fate attenzione perché è veramente l'unica cosa fondamentale e importante da tenere da tenere sempre a mente vabbè qua vi do un po' di indicazioni finalmente possiamo continuare e lui sta processing sta processando ora questa prima fase si è conclusa che cosa abbiamo fatto abbiamo inizializzato il wallet cioè significa che adesso questa chiavetta è inizializzata questo wallet è potenzialmente attivo per poterlo rendere utilizzabile però ci manca ancora un passaggio due a essere precisi uno è quello di interrarlo di interfacciarlo con appunto il ledger live quindi con l'app che abbiamo qua che vi sto condividendo il secondo invece è installare le singole app cioè significa installare all'interno di questo device delle app a tutti gli effetti che gli permettono di comunicare di dialogare con le diverse chain questo in termini molto più semplici lasciando stare tre indicismi significa che nel momento in cui installo quelle app il ledger è in grado di parlare per esempio con la blockchain di bitcoin e dire boh posso movimentare in entrata o in uscita posso depositare o prelevare bitcoin idem con patate per i tierum idem con patate con la maggior parte delle altre chain nel momento in cui perché potrebbe succedere andrete a disinstallare queste app non perderete i vostri soldi questo è un problema che non dovreste avere poi ci arriviamo perché comunque hanno aumentato lo spazio all'interno del device ma semplicemente la disinstallate temporaneamente i vostri fondi restano al sicuro storati conservati sulla blockchain e voi temporaneamente restate senza l'app per permettere a leggere e comunicare la reinstallate siete punto a capo adesso lo facciamo che è più facile a farsi che a dirsi seguiamo le indicazioni lui mi dice vai avanti vai sulla dashboard quindi mi sostanzialmente mi dice passa appunto all'app su desktop ora io qui mi ero fermato ricominciamo quindi ho capito che il mio pin è importantissimo qui mi permetteva in teoria di settarlo ma io l'ho già settato bla 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 next step cioè qua mi dava tutte le indicazioni passo passo che in realtà mi sono già fatto direttamente sul device e vabbè solite indicazioni bla 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 ok la recovery phrase bla 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 tutte cose che come vedete abbiamo visto in doppio già direttamente sul ledger qua avete altre informazioni se volete approfondire ma più o meno sono le cose che vi ho detto io I'm done quindi tutto a posto adesso dobbiamo rispondere a tre domande per evitare un po' di casini quindi prendiamo il quiz prendiamo il quiz la traduzione pessima e vediamo insieme questo non pensavo di registrarlo mi ho dimenticato ci fosse insomma a questo punto lo registiamo insieme dove sono dove sono storati i miei fondi sul nano o sulla blockchain vi do 15 secondi per pensarci no non è vero ve lo dico io sulla blockchain next question se la mia recovery phrase non è più al sicuro privata no problem legger che sarà le mie copy sarebbe bellissimo sono fottuto questa traduzione letterale della seconda opzione infatti noi la selezioniamo e infine quando mi connetto alla ledger app la mia chiave privata è still offline ed è connessa su internet questo non ve l'ho detto ma è fondamentale ed è uno dei motivi per i quali un hardware wallet è sicuro e cioè è il fatto che le vostre chiavi private sono salvate sono fisicamente nel ledger e staccate dalla connessione e anche quando vi connettete al computer per fare le vostre operazioni la vostra chiave resta offline velocissimo ripasso per chi non ha visto il corso per chi non ha visto i contenuti la chiave pubblica è il corrispettivo banalizzando dell'Iban cioè è il codice che utilizzo per spedire o ricevere soldi la chiave privata è il corrispettivo del pin della password del mio livello di sicurezza nel momento in cui è offline uno non può craccarmela in teoria nel momento in cui è online per quanto con ampi livelli di sicurezza il rischio comunque c'è bene io sono un pro grazie a dio se no sarebbe un problema cioè non sono un pro ma almeno su queste domande si andiamo a fare check my nano ok quindi facciamo un ulteriore controllo di sicurezza lo fa l'app per essere sicuri che il legend sia stato compromesso malomesso vedete che qua mi viene fuori il comando questo gioco tra app e ledger è normale lo farete anche quando sposterete i soldi io li permetto col doppio clic vedete di o di approvare o di negare l'accesso ovviamente glielo approvo e a questo punto lui dice benissimo figata sei a posto andiamo avanti come vi dicevo ora che tutto settato anche approvato interfacciato integrato con l'app con ledger live quello che devo fare io è installare delle app cioè decidere che tipo di monete voglio spostare e adesso andiamo a vedere come fare per installare le app io ho bisogno dell'applicazione su desktop quindi appunto della ledger live quindi ci spostiamo all'interno del ledger live quindi qui intanto gli do l'ok sui terms of use bla 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 eccetera ecco qua ora se voi aveste già degli altri ledger qui degli altri wallet magari su un altro ledger qui avreste già visibilità dei vostri fondi io ne ho volutamente aperto uno di neutro di x di vergine di vuoto in modo da farvi vedere lo status 0 e da tenerlo completamente vuoto ma nel caso in cui così non fosse potesse appunto trovarvi con delle già quei fondi e le informazioni e le app degli altri ledger nel mio caso vado su my ledger ok ecco qui qui avete la lista il catalogo delle app vedete ci sono tutte le possibili app per parlare con le diverse chain è abbastanza intuitivo a questo punto voi sapete che se volete spostare bnb avrete bisogno dell'app per gestire scusate avrete bisogno dell'app per collegarvi alla binance smart chain se avete bisogno di cardano via dicendo su questo solo una nota velocissima per esempio se volete scaricare se vi scaricate l'app per collegarvi alla catena di ethereum all'accend ethereum voi non avrete la possibilità solo di scaricare di spostare ethereum scusatemi altro che scaricare di spostare ethereum ma anche di spostare quei token che si basano sulla stessa chain quindi tutti i token rc20 tanto per dirvi quindi mentre bitcoin si va in modo un po' più un po' più esclusivo nel caso per esempio della cnthereum avete accesso a diversi token alcuni sono alcuni altri invece non sono supportati per esempio vedete che su avalanche o meglio sono supportati ma non direttamente dal ledger live hanno bisogno di una parte terza questo non cambia in teoria gli standard di sicurezza vi obbligherà solo ad installare una parte terza ma insomma se avete dei casi specifici sapete che è un passaggino in più ma non cambia la sostanza della cosa in generale vedete che il ledger supporta veramente un botto un botto di cena potete ovviamente fare l'update del firmware io adesso non lo faccio ma vi troverete probabilmente nella stessa situazione perché appunto è fuori da un po' di mesi e quindi ci sta e quello che andiamo a fare invece noi è installare semplicemente una di queste e così è l'app di bitcoin noi le installiamo gli do l'ok lui eccolo qua ci metto un secondo e vedete che qui sopra sta andando ad occuparmi lo spazio ora avete un mega 20 di spazio disponibile nel ledger nano s plus che sembra una presa per il culo perché un mega 20 neanche le chiavette di mio nonno ma in realtà è più che sufficiente per tenere un sacco di app installate il vecchio ledger nano s non plus quindi il suo suo nonno appunto aveva il problema di avere pochissimo spazio quindi voi con 3-4 app avete già riempito lo spazio disponibile di nuovo era un problema fin là perché era più che altro lo sbatti di disinstallare e reinstallare ma è un problema che hanno risolto che secondo me rende questo device molto più utilizzabile una volta che abbiamo installato l'app scusatemi torniamo un attimo a noi potete andare su app install per vedere appunto cosa si è installato e cosa no e potete andare ad aggiungere un account ok lo fate anche da qua lui mi chiederà di aggiungere un account di bitcoin mi chiede di aprire l'app nel mio device quindi di nuovo io gli do la conferma vedete c'è sempre questo gioco di online e fisico che vi permette di aumentare il livello di sicurezza perché c'è sempre la doppia conferma e la conferma fisica non c'è storia di cioè non la possono bypassare in teoria sempre scusate lo metto perché il condizionale è sempre d'obbligo lo dovete fare per forza voi qui potete decidere che tipo di diciamo di soluzione prendere noi teniamo la seguit non entro nel merito qui che è la più cioè che è quella che ci interessa tenere per svariati motivi legati alle fee e via dicendo e gli diamo un nome per esempio dico bitcoin test ok facciamo finta che per esempio voglio tenermi un account per spostare solo i bitcoin che credo su coinbase ipotizzo qui potrei mettere bitcoin coinbase questo è il nome che voi date per riconoscere quel wallet potete chiamarlo anche topolino se volete a questo punto aggiungiamo l'account poi ovviamente potete rimuoverlo o rinominarlo mi dice eccolo qua che è stato aggiunto con successo fatto questo è praticamente finita nel senso che l'unica cosa che manca è capire come spedire e ricevere soldi magari se vi interessa vi farò anche un video più avanti più dettagliato sulle varie voci per il momento non ha senso anche perché se no vado ancora più lungo vi faccio vedere solo questa cosa banalmente andate o su send o su receive facciamo finta che voglia ricevere dei soldi vedete lui mi dice scegli l'account to credit l'account sul quale spostare i soldi ovviamente io ne ho solo uno quindi prendo il test e continuo a questo punto lui sul device vedete qua vi dice sempre se avete guardato l'account il device bla 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 in questo caso sul device lui mi fa vedere l'address quello che vedete qua questo come vi dicevo prima è la chiave pubblica quindi è l'Iban sostanzialmente al quale spedire i soldi io posso verificare sia qui sia sul device che sia tutto in ordine se è tutto in ordine vedete vado avanti con il bottoncino gli dico o approve o reject se non lo è ma nel mio caso lo è quindi approvazione e a questo punto mi permette di mi approva l'operazione cioè sostanzialmente mi conferma quella chiave pubblica io mi sono dimenticato e una cosa che succede abbastanza spesso di copiare l'indirizzo a questo punto riverifica torno indietro mi copio l'indirizzo e di nuovo gli do l'ok mi copio l'indirizzo perché? perché se io per esempio devo spostarmi questa cosa che do per scontato sappiate ma di nuovo sono magari per poco pratico non è intuitiva io devo spostarmi i soldi da Coinbase alla chiavetta all'edge cosa dovrò fare? andrò su Coinbase selezionerò la voce withdraw la voce prelievo nella voce prelievo avrò una maschera di interfaccia dove potrò mettere diverse informazioni che saranno l'amount cioè quanti soldi voglio spostare ipotizziamo 200 euro a caso in bitcoin stavo per dire un bitcoin sarebbe bellissimo ipotizziamo di spostare un bitcoin e nell'indirizzo quando lui mi chiederà dove spostarlo dovrò mettere questa stringa alfanumerica cioè dovrò mettere il mio IBAN banalmente gli dirò Coinbase prendi un bitcoin che non ho e spostalo da il tuo wallet interno dentro appunto la piattaforma Coinbase dentro l'exchange al mio wallet l'indirizzo al quale spostarlo è questa stringa qui l'IBAN al quale spedirlo è questa stringa qui la stessa cosa succede al contrario se voi dovete spedire dei soldi a qualcuno o ad un exchange quello che farete mettiamo che abilità i vostri soldi qua vi serva un po' di capitale per fare delle operazioni di trading e le vogliate fare su Coinbase invece che fare receive scusate che lo chiudo approva ecco fatto invece che fare receive andrò su send in questo caso li sto prelevando dal ledger per spedirli stessa identica procedura dovrò mettere ovviamente qui sotto il bitcoin address che in questo caso è quello che mi dà l'exchange quindi quello del wallet interno alla piattaforma e poi farò tutta l'operazione dirò quanto ne voglio spedire mi darà la verifica bla 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 e poi l'approvazione da dispositivo di nuovo questo fa sì che nessuno possa prelevare i vostri soldi se non siete voi poi a fare il click qua la conferma della cosa quindi veramente molto veloce una volta capito come funziona molto sicuro chiaro che se fate trading tutti i giorni con il capitale non ha senso spostarlo avanti e indietro ma nel momento in cui vi tenete nell'exchange solite regole di base i soldi che vi servono magari per fare le vostre operazioni e il resto invece non vi serve perché è depositato spostarlo all'interno del ledger è un attimo e vi fa dormire sonni piuttosto tranquilli soprattutto se succede una cosa come quella di FTX ecco tutto ragazzi io chiudo dandovi solo ah no scusatemi le considerazioni finali al volo ha senso prenderlo? dal mio punto di vista sì per un motivo molto semplice che per essere un entry level sia come prezzo sia come complessità di utilizzo è un oggettino molto 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 comodo e anche molto economico perché questo questo cosino qui c'è molto economico dipende ovviamente dal task di ciascuno ma rispetto a quello che fa non ha un prezzo esagerato perché parliamo di circa 69 o 70 euro conto i 150 o 160 vado a memoria forse anche un goccio di più del ledger nano x che invece è il top di gamma il suo predecessore il ledger nano s costava intorno a cinquantina di euro ma aveva una serie di problemi primo non aveva lo schermo che per quanto poco vi semplifica la vita e adesso lo schermo è quasi uguale a quello del ledger nano x due vabbè non aveva la batteria ma non ce l'ha neanche lui ma insomma fin là è un problema relativo ma soprattutto aveva pochissimo spazio quindi come vi dicevo la memoria era veramente veramente uno schifo questo ha risolto il problema perché adesso ha un po' di meno memoria rispetto al nano x ma comunque ha una quantità di memoria che vi permette di installare tutte le app che volete sostanzialmente magari non tutte ma una buona quantità perché non prenderlo onestamente dal mio punto di vista per quasi nessun motivo perché soddisfa le necessità credo della maggior parte delle persone cioè il nano x resta il top di gamma ma non c'è più questa differenza incredibile il motivo per il quale potreste non vogliono prendere appunto è perché ha leggermente meno memoria perché non ha la batteria e quindi o siete collegati ad un computer o non potete utilizzarlo però come vedete comunque tendenzialmente per utilizzarlo vi serve l'app ma soprattutto ed è questa la vera grande differenza se dovete utilizzarlo anche col mobile perché quello che lui non ha e neanche il nano s precedente aveva è la funzionalità bluetooth che invece il nano x ha quindi se volete utilizzarlo con mobile a me non è mai successo ma può essere o se volete poterlo utilizzare senza dovervi collegare e quindi senza l'utilizzo del cavetto la batteria ma soprattutto il bluetooth sono fondamentali e in questo non l'hanno aggiunto dal mio punto di vista però vi ripeto per la spesa che richiede e per la complessità molto agile in realtà una volta capito come funzioni di utilizzo questo è un ottimo ottimissimo entry level che vi garantisce la stessa sicurezza del top di gamma del nano x ma che vi permette cavarvela risparmiando un po' di soldini e in realtà non andando a perdere chissà che funzionalità perché vi ripeto il bluetooth tranne qualche raro caso e la batteria idem difficilmente almeno per quella che è la mia esperienza vi troverete ad utilizzarlo basta finisco che se no vi tengo qua altri due giorni se avete domande ci vediamo in descrizione ci sentiamo in community o nei commenti e se volete acquistarlo potete andare direttamente sul sito verificate ovviamente di prendere dal sito ufficiale il link ufficiale solite raccomandazioni e sicurezza o in descrizione trovate a raffare il link che purtroppo per voi non per me non ha bonus in questo caso rispetto ad altri almeno non che io sappia per chi lo acquista bonus solo per voi però insomma se avete voglia e vi fa piacere e volete dare una mano al canale quello è sempre un modo che a voi non cambia sostanzialmente nulla a noi aiuta a tenere in piedi del progetto ci vediamo nei prossimi giorni ci vediamo in community come sempre io vi auguro una buona continuazione di settimana ma soprattutto una buona due diligence ciao ciao